ed eccoci qui ancora la presa non è finita mancano 50 secondi ma non credo che in 50 secondi possono fare chissà che io onestamente roma che perde 2 a 0 ormai tanto quando si affrontano le picche risultate quasi sempre questo quindi tanti dicono è giochiamo bene abbiamo giocato bene sicuramente questa è una partita che mi ricorderò a lungo andare ecco questo non ho visto tutto sto gran spettacolo se questo gioca bene allora onestamente poi guardando le statistiche a fine ecco è finita adesso 2 a 0 a fine primo tempo 0 ti importa se questo gioca bene poi gioca bene quanto pare ma se non ti importa e non fai quasi nulla difficilmente riesce a pensieri a juve e infatti detto è fatto 2 a 0 per carità ne ho quest'anno che abbiamo giocato male però magari per 60 minuti però se fai pochissimi ti importa e non te crei le occasioni contro la juve e la scampi soprattutto vedendo chiellini che da quando è ritornato infatti la juve ha trovato una solidità difensiva molto molto spiccata direi infatti oggi ha fatto due tre interventi proprio da difensore puro infatti secondo me tra i migliori in campo sicuramente insieme con kurusischi quando entrato e cr7 quel gol è spettacolare anche se cristante per me tanti dicono è brauno è un bel centrocampista se da me onestamente non mi dice niente per carità mi ha mai detto niente anzi più le volte che mi fa bestemmia che altro per la roma qualcosina quando è entrato gioco un colpo di testa cristante stesso sul primo tempo che ha fatto quel tiro ma onestamente poco poco a poca roba 3 milioni in campo ci mette un po spinazzola che ha provato su quella fascia ma però sempre è stato ribattuto un calcio d'angolo e purtroppo stasera c'era poco da fa con la juve in queste condizioni così all'andata 3 a 3 mi ricordo al ritorno 2 a 0 per loro quindi stanno non ci hanno lasciato nessuna vittoria anche perché erano dietro essendo davanti quindi ci hanno anche superato e quindi oggi onestamente non ho visto una grandissima roma onestamente parlando si aveva qualcosina ma tutto questo spettacolo che leggo l'ho non ho visto onestamente a me onestamente mi interessa fai punti non lo spettacolo lo spettacolo fanno quell'altri fanno a teatro ecco e niente c'è poco un altro a di speriamo che amo attacchiamo un po a vince per bini perché se fai punti solo contro le piccole e fuori dal cazzo onestamente allora e niente poca roba onestamente parlando sono un po deluso perché anche nei scorsi anni quando che ne so magari lottavamo per il campionato qualche espluato contro una grande la facci sempre in qualche vittoria invece questi anni proprio brutti onestamente per carità adesso fermo restando che stiamo facendo un bel campionato onestamente anzi sopra tutte le aspettative mie onestamente però non ci riesce di vincere contro una grande un intermina la juve la lazio e questo è questo manca il salto alle qualità e secondo me mancano anche qualche giocatore di qualità soprattutto zaniolo ci manca soprattutto in questi casi che magari con una giocata come quella legge r7 te decide le partite sicura medde e va bene fammo che gita e tanto ormai io in campo per me chiellini e cr7 per loro per noi altri spirazzola ci metto anche gecko e chi ci posso metti ma poc'altro onestamente pochi altri a mancini 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 è piaciuto onestamente anche mancini però anche te mancini porca zuzza se va più a sempre cazzo le munizioni ogni partita se viene ammunizione credo che ci abbia tutti i regali mondiali mancini con la munizione comunque oggi mi è piaciuto parecchio e niente appuntamento alla prossima e sempre 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 forza luma